come avete visto non stavo scherzando quando doveva parlare a un guerriero ha parlato il guerriero, era un altro guerriero, Gaetano buongiorno a tutti, Gaetano Nicolosi, cittadino di Ramacca e attivista 5 Stelle innanzitutto vorrei fare un ringraziamento ai meetup di Catania che sono venuti Gran Michele, qualcuno di Radusa, il meetup di Palagonia che sono venuti qui a darci il loro sostegno a darci la loro voce, la loro parola io prima di parlare di un argomento un po' scottante qualche giorno fa abbiamo fatto una riunione, durante l'assemblea abbiamo invitato un giornalista che ci ha un po' raccontato nel dettaglio quello che rappresenta il cara di Mineo perché tutti conosciamo il cara di Mineo, ne ha parlato domenica scorsa con due parole anche il consigliere Pulizia, dicendo delle cose sane, attenzione ha detto delle cose ovvie e sane ma prima di approfondire il tema sul cara vorrei fare una piccola riflessione l'altra volta, durante il nostro incontro pubblico sempre con i portavoci io ho fatto un piccolo intervento dove esortava la cittadinanza e le persone che oggi come oggi sono tartassate dalla cattiva informazione ho chiesto a loro di informarsi, se avevano qualche dubbio di fermarmi anche per strada, gli altri attivisti e noi possiamo spiegare quello che magari loro non capiscono quello che magari viene occultato dall'informazione, dai media allora racconto qualche episodio questi giorni sono stati un po' particolari per me perché mi capita molto spesso, sia da parte degli amici anche i parenti, i conoscenti, anche per strada di parlare, non discutere di politica discutere di senso civico delle cose ma quello che mi viene detto è sempre racconto un piccolo episodio ma guarda sai, ho letto sta cosa, è così è il suo giornale ah sì, l'ho letta anch'io però zitto, non lo devi dire a nessuno ma come, se è un fatto pubblico, perché non devo dirlo a nessuno? perché non si può dire? shh, muto poi capitava che qualcuno magari attraverso qualche tipo di discussione io magari un po' mi agitassi un po' io voglio spiegare innanzitutto una cosa è il mio carattere, è il mio modo di vivere mettere passione nelle cose quindi magari la mia agitazione scaturisce da questo però dopo la prima volta la seconda, la terza in cui mi si dice che testuali parole io ho qualche problema perché soffro troppo di ansia sono troppo incazzato quindi a che cosa sono aggiunto io? sono aggiunto a una riflessione personale la riflessione era ma se tutta sta gente mi dice che io devo stare calmo che devo stare più tranquillo che non mi devo arrabbiare magari è colpa mia magari ho qualcosa io che non fa ma riflettendo bene ho pensato una cosa e lo voglio dire a tutti voi stasera o stamattina qui in piazza lo dico non alle persone vicine lo dico a quelle lontane il problema, cari miei signori non sono io che mi incazzo il problema è perché voi non vi incazzate perché voi non vi arrabbiate perché non lo vedete quello che succede volevo dire io quindi il problema non è mio ora parliamo di Europa siamo qui per questo oggi che Europa abbiamo? c'è una politica comune? non mi risulta ci sono dei diritti comuni? non mi risulta neanche questo quindi che politica europea abbiamo? una politica di sfruttamento noi paghiamo ho qui qualche dato scusate per meglio dire lo Stato italiano spende circa 800 miliardi l'anno di euro di questi 100 vengono indirizzati agli interessi sul debito pubblico nel 2013 ad esempio l'aumento del debito pubblico su base Anna è stato di 89 miliardi di euro ora capiamo una cosa innanzitutto puntualizziamo il fatto che questo debito è immorale l'abbiamo già spiegato altre volte ma in parole povere cos'è che accade? il popolo italiano sta morendo perché cosa? per pagare gli usurai perché usura questa è usura il debito pubblico è usura non è nient'altro ecco io volevo collegarmi appunto al discorso sul cara di Mineo perché è una situazione un po' particolare l'abbiamo definita come dicevo prima l'altra volta durante la nostra assemblea una patata bollente perché una patata bollente? perché tutti i politici destra, sinistra, centro c'è la stessa cosa poco fa al barri mi rimproveravano il fatto parlavano sentivo dire la destra la sinistra c'è ancora gente che litiga ma adesso e poi a sinistra sono tutti complici sono seduti tutti insieme non c'è distinzione più continuo a sentire parlare una deputata del PD la signora Picerno che dice che con 80 euro l'italiano si fa la spesa per due settimane e va a cena fuori due volte al mese ma stiamo scherzando? devo dire allora che mangia i bambini davvero questa sera si subito vuol dire che si mangia i bambini non la capisco sta cosa come fa a fare questa spesa ma torniamo al discorso sul cara di Mineo qui dobbiamo devo anticipare una cosa innanzitutto non me ne vogliono le persone i padri di famiglia che lavorano al cara di Mineo perché forse per me quanto ce ne lavorano nel nostro comune? 100? 50? ne vorrei 2.000 là dentro il problema non è le persone che lavorano lì non è le condizioni il problema è il sistema politico come gestisce questa cosa il cara di Mineo viene sbandierato a testa e a manca come se fosse un centro per l'integrazione degli immigrati è tutt'altro è tutt'altro perché all'interno del cara di Mineo a lungo andare col tempo si sono create innanzitutto delle sub-economie delle sub-economie a nero quindi illegali abbiamo avuto casi di prostituzione ed è vero che ci sono stati abbiamo avuto anche un suicidio il dicembre scorso ci è un po' portata sta cosa ma c'è stato un suicidio poi ci sono anche un altro aspetto molto importante il caso igienico sanitario noi dobbiamo capire una cosa il cara vero che rappresenta un centro per appunto l'accoglienza di queste povere persone che scappano dalle guerre che scappano da paesi in cui si muore di fame che stanno peggio di noi però noi non possiamo sbandierare il fatto che noi facciamo integrazione noi facciamo aiuti umanitari questi sono aiuti umanitari è vero che con l'operazione Mare Nostrum andiamo a raccogliere queste povere persone dal mare per carità questo ci fa onore è una cosa bellissima ma che senso ha spendere 200 300 mila euro al giorno nelle fasi estive in cui c'è un flusso maggiore per poi prendere queste persone e abbandonarle a se stesse in un limbo ora io mi ricordo una cosa ero bambino negli anni 80 ero molto piccolo ma io mi ricordo che i muri erano stati già buttati a terra e penso che ve lo ricordate tutti i muri sono stati buttati a terra li abbiamo distrutti e quindi abbiamo creato un altro vero che queste persone molti mi dicono hanno la libertà di uscire quando vogliono non succedono a mangiare vero vero e questo è un altro punto che senso ha spendere e il mio non è una forma di razzismo il mio è logica che senso ha spendere mille euro al mese per ogni extracomunitario per ogni clandestino quando gli italiani moriamo di fame allora attrezziamo le strutture adeguose mettiamole in condizione di lavorare bene cambiamo il trattato di Dublino perché dobbiamo noi salvare queste persone ed è giusto farlo è un nostro dovere ma perché poi dobbiamo essere costretti a rinchiuderli in quegli spazi tra quelle mura tra quella rete perché all'interno del cara ci sono 4.600 persone dall'altro lato abbiamo un centinaio di militari ecco abbiamo visto le rivolte l'anno passato le rivolte sulla Catania Gela tutti ce le ricordiamo persone che non potevano andare al lavoro ci sono eventi diversi disagi scontri con le forze armate cioè ma vero che tutto questo è sbagliato ma mettetevi nei loro panni se vi prendono e vi richiudono in un limbo in cui non potete né uscire né entrare sono lì non hanno cittadinanza italiana non hanno cittadinanza europea cosa ancora più grave che senso ha tutto questo? non ha senso ora ci sono presentati all'interno del cara prima di passare la parola a una persona veramente speciale un grande giornalista che ha avuto l'onore di conoscere qualche giorno fa durante appunto questa famosa assemblea ci sono dei punti importanti riguardi al cara di Mineo innanzitutto il fenomeno del caporalato che è un fenomeno molto antico non è che è di ora fenomeno vecchio ma che sicuramente si è accentuato è cresciuto quando? è cresciuto con l'avvento di tutti questi immigrati sul nostro territorio sfruttamento della mano d'opera queste persone vengono caricate a massa nei camion nelle macchine con una paga di 5-10 euro al giorno e che se sull'aiuto umanitario che facciamo questo è sfruttamento e innanzitutto tolgono anche come dire lavoro ai braccianti nostri del nostro territorio e non ci lamentiamo se poi ci sono i saccheggi nei giardini se ci sono i saccheggi nelle strade ma siamo noi che li stiamo spingendo verso di noi non è innato non è innato un altro punto fondamentale prima di passare la parola appunto al Leone 25 e il discorso appunto igienico-sanitario ci sono state delle ispezioni all'interno del CARA l'ultima del 13 aprile vero che ci sono le ispezioni ma è anche che un incommunicato il ministero dell'interno dice quanto è messo dall'ispezione a sorpresa dello scorso 13 aprile evidenzia una negligenza molto grave sul piano penale ai gestori ma tutti sappiamo il CARA di Mineo perché è stato fatto è l'ennesimo strumento di controllo è l'ennesimo strumento di controllo della politica lo sappiamo tutti però nessuno ne parla perché giustamente dobbiamo far lavorare i nostri concittadini che è giusto ora io chiudo qui il discorso e voglio ricordare un amico che oggi in questo preciso istante non c'è perché sta poco bene anzi lo saluto ciao Marco riprenditi presto so che è in contatto con noi attraverso cellulare per questo lo saluto lui ha fatto una battuta che non è una battuta così tanto per dire è una battuta molto seria cioè è come dire che noi ci auguriamo che la gente muoia quando questi picchini lavorano è lo stesso discorso ora io vi chiudo vi ringrazio tutti e vi saluto tutti passo la parola a Leone 25 grazie